Gli investimenti nella fabbrica più importante della regione continuano a dare risultati in termini di occupazione. Altri 12 giovani sono pronti ad entrare con contratto interinale allo stabilimento Fiat Chrysler di Termoli. L'azienda si è confrontata con i sindacati per annunciare nuovi ingressi destinati ai lavoratori che verranno impegnati lungo le linee dei nuovi motori, il T4 e il V6 di alta gamma. Proprio nei giorni scorsi l'ingegnere Luigi Galante, braccio desto dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, è tornato a Termoli per fare il punto sull'andamento delle nuove linee produttive che hanno già coinvolto numerosi nuovi assunti già da diversi mesi. Si tratta del responsabile dell'EMEA, Area Europa, Medio Oriente e Africa, che gestisce più di 20 stabilimenti con poco meno di 50.000 dipendenti e importanti risorse impegnate. Una visita che conferma l'attenzione sullo stabilimento di rivolta del Re, che impegna circa 3.000 addetti senza contare l'indotto. Ora altri giovani che hanno superato le selezioni, che spesso riguardano anche neodiplomati dell'industriale o profili adatti ai ruoli di conduttori o altre figure, andranno a condividere il piano di rilancio dello stabilimento, annunciato proprio dal numero uno dell'azienda in occasione dell'anniversario del motore Faire. Secondo Giovanni Mercogliano, segretario territoriale della Fismic, l'ingresso di altri 12 lavoratori conferma l'incremento produttivo per i nuovi propulsori e fa ben sperare per il futuro in una realtà a punto di riferimento per l'intera regione. Un dato significativo, aggiunto il rappresentante di categoria, che amplifica il ritorno in termini di livelli occupazionali per l'azienda, ma anche per l'indotto e per tutti i servizi connessi. Ora si aspettano ulteriori novità. Grazie. 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 Grazie.